il trap con caverde nasce nel 1982 dall'idea di quattro amici che stanchi di girovagare per diversi campi di tiro decidono di costruire questo campo di tiro soprattutto per la specialità del trap molti altri amici si aggiungono a questi e nel 1984 il campo viene ampliato da due a quattro altri amici giungono e nell'87 arriviamo ad avere sei campi di tiro a volo poi sotto la pressione della federazione italiana tiro a volo e soprattutto delle aziende del settore i campi di tiro a volo diventano nove nel 2005 per poi addirittura nel 2010 arrivare fino a 12 campi di tiro a volo che sono quelli che stiamo utilizzando attualmente per questa prova di coppa del mondo il trap con caverde ha diciamo così organizzato dal da quando è nata diverse prove di coppa del mondo campionati del mondo campionati d'europa e finale di coppa del mondo il record di partecipazioni l'abbiamo avuto nel 2010 con esattamente 79 paesi partecipanti e 600 tiratori che è stato ed è tutto il il record mondiale di partecipazioni in una prova di coppa del mondo trap con caverde quest'anno ospita questa prova di coppa del mondo in sostituzione di quella che avrebbe dovuto essere svolta in egitto all'inizio eravamo un po' paurosi visto che non c'erano quota place non avevamo la possibilità di poter offrire ai tiratori delle gare di sostanza delle gare di 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 in preparazione però la risposta dei tiratori e del mondo tiravolistico è stata veramente eccezionale perché oggi ospitiamo 76 nazioni con 510 tiratori perché questa organizzazione funziona perché siamo tutti amici ci diamo la mano l'uno con l'altro e vogliamo che questa organizzazione funzioni al meglio vogliamo che i tiratori abbiano quello che loro desiderano perciò piatelli regolari campi regolari visibilità ottima come potete vedere alle mie spalle la montagna che abbiamo che permette di vedere i piatelli molto bene ma soprattutto desideriamo dare al mondo tiravolistico per quanto riguarda l'italia la federazione italiana tiravolo dal suo presidente un'immagine di organizzazione che è al top per quanto riguarda queste competizioni io ero a londra per quanto riguarda la gara pre olimpica ho incontrato persone veramente preparate per quanto riguarda la gestione delle gare di tiro a volo è logico che alcune cose devono essere messe a posto come per esempio le macchine lanciapiattelli che devono essere tarate nella maniera giusta e per quanto riguarda tutta la parte elettronica che deve avere una sua configurazione adatta per poter gestire al meglio quelle che saranno le informazioni da inviare ai diciamo così agli spettatori e soprattutto alla televisione e penso che dopo di questo bisogna ancora mettere a posto alcune cosettine però sono convinto che con la classe inglese che si distingue nell'organizzazione di tutte le manifestazioni sicuramente quando aprirà il campo di tiro al 16 di luglio sarà tutto pronto per ospitare al meglio questa prova olimpica che suggella ancora una volta il tiro a volo nel mondo abbiamo tenuto di organizzare i campionati del mondo nel 2015 è logico che su questi campi qualcosa c'è ancora da fare come per esempio aumentare il numero di campi di skit perché a tuttora con 5 non è sufficiente per poter ospitare nei tempi predetti e richiesti dalla ISSF una competizione in due giorni sicuramente noi faremo qualcosa per poter dare ai tiratori la possibilità di avere questa gara soprattutto di skit nei tempi adeguati per quanto riguarda il trap e il double trap noi siamo già appunto perché avendo 12 campi di trap che possono essere anche combinati col double trap possiamo ospitare un alto numero di tiratori tra l'altro nel 2015 abbiamo già avuto la conferma da parte delle aziende del settore quali Beretta, Perazzi, Fiocchi, Baschieri e Pellagri, Clever, Rizzini e via dicendo il loro appoggio perché senza di loro sicuramente un campionato del mondo non potrebbe essere organizzato grazie a tutti